Quest'oggi si va di follie davvero pesanti in playground Allora, vogliamo fare una rampa che ci porta fino alla massima altezza del gioco Mettiamo la trappola congelante e fin lì niente di che Utilizziamo il carrello e il go-kart per scendere velocissimi E per di più lo facciamo in un punto dove ci sono quei mini crateri viola che ti permette di saltare Quindi praticamente cosa succede? Testiamo cosa succede con una rampa a massima altezza Dove sei congelato con il carrello congelato con le ruote congelate Vai velocissimo, per di più a questa velocità incredibile Ti prendi il mini crateri viola che ti fa sbalzare tantissimo come ben sapete E non so a che cosa succederà Ed esci fuori dalla mappa Allora, è quello che spero Ti volevo dire, ma scusa il carrello si congela? Sì, a conto fare sì Non ne ho mai provato uno sopra L'ho visto e praticamente Craner ha fatto Raggiungiamo la massima velocità su Fortnite E hanno fatto proprio rampa con carrello con trappola congelante Quindi ho pensato Ok, perfetto Ok, ma se combiniamo tutto quello a quelle cavolo di mini crateri viola Che cosa succede? Eh, chi lo sa Cioè, secondo me si guarda tantissimo Probabile, Steph Non ho idea Probabile davvero che forse creiamo qualche bug o qualcosa del genere È quello in cui spero Perché è davvero amico Allora, Steph, quindi dove andiamo a fare questo esperimento? Stai già andando lì giù Ti devo raggiungere Sì, devi venire qua Ma quante trappole ci serviranno? Io ne ho già 15 Ma, Fede, ci bastano Io ne ho altre 9 Ok, a posto Sinceramente ce ne bastano tipo 5, 6 Ce ne servono davvero poche Benissimo, benissimo Te li ho fatti farmare Quindi siamo a posto Giusto per farti fare qualcosa Sì, perché a me inizio il video ha fatto Farmare un sacco di trappole Che ce ne servono 300 E poi ha cambiato idea Ma non è che era un 300 Mi hai detto 300 No Io pensavo che dovessi fare 300 Ho detto C'è gente che riesce a farmarne 300 Quindi compaiono in una vending machine Ma non ho capito di che rarità Ah, era quello il discorso Ma non ci servono 300 vending machine Allora, ci serve 300 trappole Ci serve puntare verso un punto Dove non si infinisce in acqua facilmente Ovviamente Tipo, se ne puntassimo verso lì Finiremmo fuori dalla mappa Così di sicuro Quindi noi mi sa che puntiamo Cosa ti è successo? Eh, ho preso il cratere E ho saltato Eh, vabbè, devi stare attento Allora Sto andando proprio in quello lontanissimo Porca miseria Secondo me Guardate così, raga Non vorrei che Quel frangente lì Rovinasse tutto Non mi piace sta storia Non mi fa mettere la rampa dritta dritta, Fere Ok Ok Quindi sono lì che cerco di studiare un po' la situazione Eh, ovviamente Perché un po' il building è strano È schematico Quindi non puoi mettere dove vuoi Vediamo un attimino Tipo, qua Adesso arrivo ad aiutarti, Steph Ma così Se noi Sembra di sì Sembra di sì Sembra che funzioni Sto parlando da solo, ok E beh, Fere, non ci sei Non capisci cosa sto provando Sto arrivando I consolini lo vedono Quindi sto parlando con loro Non con te Semplicemente Da solo In questo momento sei solo Perché nessuno ti sta vedendo Quindi Così va bene Ok, ce l'ho fatta Ok Aspetta che arrivo Adesso c'è da raggiungere massima altezza Prendere un carrello Io ho portato un Un coso Un go-kart Quindi ci serve soltanto un carrellino Se vai a prenderlo Ce ne sono a grisi tanto, Fere, a boschetto Io non l'ho portato, ovviamente Lo so che non l'hai portato Ovviamente Eccomi qua Vado a prendere il carrello Va bene, cara Io sto preparando la rampona altissima E devo aspettare a piacere le trappole Perché prima ci dobbiamo salire col carrello Ovviamente Perché se faccio la scemenza Poi non riusciamo più a salire Perché si congela e cadiamo E questa è una cosa A cui bisogna stare attenti Steph Dimmi, cara Ma hanno arrivato da lui La casetta di boschetto Ma da un sacco Ma da quanto? Eh, ma da un sacco Non è vero Non è da un sacco Guarda, non l'ho giocato solo ieri A forno E quindi non rompere Evidentemente non vai a boschetto Da qualche giorno Ma è bellissima Fai che c'è tipo da Non rompere l'hanno appena messa È bellissima Ok L'hanno appena messa L'hanno appena messa L'hanno appena messa Ok Allora, non so come portare su anche il go-kart Ma ci penseremo dopo Penso Mi sa che Ok, cara Non ci voglio pensare adesso Ok, cara Ai, 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 ai Ti aspetto È il momento di volare Quanto ne mettiamo, Freeze? Probabilmente tipo 5 E basta ne avanzano Sì Ma tranquillo Proprio Ehi Secondo me Ne devi mettere Allora, dalla massima altezza Uno in altissimo Uno al centro Uno alla fine Smetti di usare il carrello È morta Ho smesso di usare il carrello Devi scendere dal carrello Mi dici, smetti di usare Cioè, vuol dire fermati Aspetta che salgo Oddio, raga Penso che Ma che è sta roba? No, questa cosa io la sapevo già Io non la sapevo Io la sapevo Non sto improvvisando Sto improvvisando del fatto Che quando sei ombra L'effetto jump È aumentato Se noi facessimo in tempo A diventare ombre Salire lì sopra E prendere così Quello sbalzo E vabbè Potremmo davvero Fare tutta la mappa, Fere Prima di tutto Ci serve un posto Con cui salire dal carrello Senza andare Allora, l'ombra si ghiaccia, Steph Io direi di provarlo Tipo, mettiamo una trappola qui Tanto ne abbiamo tante E prendiamo un potere E prendi un'ombra lontana Esatto Ne prendo una qui giù Ok, questo è il mio go-kart Che ho portato Con tanta cura Perché se l'ombra Poi non si ghiaccia Esatto, roviniamo tutto Non ha senso Però in realtà Si ghiacerebbe comunque il carrello No? No, no Però L'ombra non si ghiaccia Eh ma scusami Cioè tipo Io ci salgo con questo Ok Sono ombra Non sono ombra Questo si ghiaccia Vedi? Non cadere di so Bacca miseria Questo è perché Dovevo farlo vedere a fare No Non c'era bisogno, Steph Bastava mettere un muro di fronte E non saresti caduto Invece sta sempre frattoloso Dai, stali su Dritto, eh Teniti dritto, Steph Beh, capisci quanto è difficile sta roba? Facilissimo Eh no, è tosta Allora, secondo me dobbiamo fargliela però comunque un qualcosa che lo ripara da quella parte Tipo di muri Dei muri hanno senso in modo tale che Ci rallenterebbero Eh ma ti fa evitare di sbandare Eh ma dico se tocchiamo il muro perché abbiamo sbandato Magari non cadiamo giù ma ci rallenta Capito? Sempre meglio però di cadere Non lo so, secondo me se io riuscissi Allora, ho iniziato a sbandare perché dovevo aggiustare Se io riuscissi ad andare dritto perfetto Non credo che avrei bisogno Però c'è da dire che comunque il ghiaccio ti fa sbandare parecchio, Steph Non lo so, secondo me è la mano tremolante il problema È la mano tremolante E comunque eravamo a tre quarti, no? Cioè, mi bastava un pizzico in più Sì Cavolo, si va veloci eh Mamma mia se si va veloci Pensa a quella velocità a prendere quel roboviola È una roba assurda Cioè, chissà dove finisce Non lo so ma è qualcosa di interessante Però bisogna anche vedere se magari quel mini cratere Prende la velocità a cui tu lo stai prendendo O seppure, capito? È standard e quindi più di un certo tempo non ti salza Quella è la cosa che si scopre È ovvio Allora, vai prima te Anzi, facciamo così così non sono in mezzo È sempre in mezzo Di fatto ti ho centrato Allora, devo stare al centro perfetto Tendi un po' più verso l'altra parte Che abbiamo comunque la rampa No, no Tendi un po' più verso l'altra parte Tanto devo prendere poi quel coso viola E vabbè, poi ti raddrizzi Sta andando male No, forse è bene No, dai, alla fine no Alla fine no C'è un problema lì Non riusciamo a tenere quella velocità dritti, Steph Non ci riusciamo proprio Non ci riusciamo proprio Dov'è che si sbanda più o meno? Dopo la seconda trappola È davvero alla fine Eh, ma ti può fare un muretto così? Secondo te? Cioè, giusto per non sbandare La seconda Questa è la terza Eh, lo so Ma tanto puoi sbanderesti uguale Quindi Guarda, non li faccio neanche troppo alti È giusto per non farti cadere Cavolo, raga Questa volta ce l'avamo vicini Sì, assolutamente È più difficile del previsto? Molto Almeno ho spesso di criticarmi Perché adesso ha visto Che non era così banale Però cavolo è bellissimo Si va straveloci Si va straveloci Ma infatti voglio proprio vedere Cosa succede a quel punto Certo, potremmo farlo senza carrello Ma col carrello si va ancora un po' più veloci E voglio provarlo al top Non voglio accontentarmi delle cose Perché sono scarso a guidare In realtà non è No, è che si sbaglia un botto col ghiaccio Guarda, se cadi tra un buco Del muro e l'altro Dai Che è successo? Ho preso pure un crat Meno male che abbiamo l'idea di fare E vabbè, Steph Se te non riesci ad andare dritto Se fossi andato dritto Oh, vuoi provare? Sì Almeno così Almeno una volta Vediamo che cavolo succede Perché comunque, vedete La velocità è minore del kart Del carrello Ma non così tanto Quindi vediamo Non prende l'effetto Però si finisce l'altra parte della mappa a priori Molla, mi gioco Come si molla? Ops Ah, spazio per riuscire Non mi ha preso la fisica dell'ombra Vedi, non ti prende Cioè, non gliene frega nulla sto cratere In sostanza Cioè, ti fa saltare quel tot e basta Lui non gliene frega niente Che velocità vai Non mi ha preso la fisica dell'ombra E io speravo che prendesse la fisica dell'ombra Per farmi saltare un sacco di più Cioè, ironicamente Ad ignorare Tutte le cose Il carrello vai più veloce No, guarda, proprio da ombra Così, dritto su questo Salti di più Sì Guarda Perché a quel punto Prende la fisica dell'ombra E non prende il carrello Capito? Uffa È un po' strano Uffa, bene Eh, mi dispiace Lo so, poteva essere bello Ma purtroppo non ha funzionato Dai, capita, no? No Vuoi provare qualche altra cosa, Steph? Voglio provare con il kart Ok, proviamo con il kart Sono triste Adesso faccio un trick No, arrivo, Steph Dai Dove stai andando? Non essere triste, Steph Sono tristissimo Sono una spaventata Passi di triste Non lo vedi? Vai, muoviti Ce la facciamo? No, Steph No, Steph No, Steph Sì No Siamo tornati giù Quasi Siamo tornati giù Avresti dovuto prendere al volo anche questo cratere Eh sì, che sono Schumacher Però poi al volo quello e sei arrivato, capito? Fatto Adesso Noi andiamo qua Vabbè, tecnicamente comunque il kart è più stabile Quindi forse riusciamo a farci tutta la discesa Vuoi provarla tutta? È un po' più stabile del carrello Dai, riesci ad andare più dritto Essendo un veicolo più grande Si salvi chi può, io ve lo dico Vabbè, ma quello è il bello Più o meno Ok Ho salita verso la morte Riesci a girare qua? Perché in effetti C'è poco spazio Di ma no Tranquilla, non mi chiamo a fare Ok, vai Ma Ma Oh, quanto si sbanda Quindi anche col carrello, ragazzi Abbiamo avuto la conferma Che anche dalla massima altezza Non sarebbe cambiato una ceppa Va meno veloce il kart Prendermelo velocità Sì Boh Triste Eh, un pochino È stato figo Poteva essere epico Però non l'è stato È stato carino Ma poteva essere epico Ma è stato soltanto carino Vabbè Ci si è provato Ci si è provato Giustamente Ci fermiamo così Spaventa passi di triste Hashtag E qua sotto come sempre Compagno a nuovi video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao